L'italiano secondo il metodo natura. Capitolo 35. Capitolo 35esimo. Storia dei due ladri. Ecco la fine della lettera in cui Bruno raccontava la storia dei due uomini che li avevano inseguiti fino a Napoli. Noi credevamo che i nostri amici ci avessero seguiti fin da Barletta, mentre in realtà ci avevano seguiti fino da Taranto. Perché? Come mai? Come ha detto Vespucci. È una storia fantastica. Se vi ricordate, vi ho scritto che eravamo arrivati a Taranto nel cuore della notte dopo esserci smarriti, un paio di volte nelle vicinanze di Ginosa, ed essere rimasti senza benzina in aperta campagna. Proprio quella stessa notte, una barca a motore si era fermata a largo di Taranto, nel cosiddetto mare grande, e una barchetta a remi se n'era staccata. Un momento prima, una cassa era stata calata in quella barchetta dalla grossa barca a motore. Nella barchetta c'erano due uomini, un italiano e un straniero. lentamente, remando senza fare il minimo rumore, i due uomini si erano avvicinati alla città addormentata. Sotto il naso della polizia del porto avevano attraversato tutto il mare grande ed avevano approdato, di là dal porto, sulla riva del mare piccolo, a nord della città. Appena approdati, i due uomini si erano guardati intorno per essere sicuri che nessuno li aveva visti, ed avevano fischiato come per chiamare qualcuno. E infatti, al loro fischio, altri due uomini si erano staccati dall'ombra che li nascondeva, ed erano scesi rapidamente verso alla barchetta. Quei due uomini erano i nostri inseguitori. Insieme, agli altri due, essi avevano scaricato dalla barchetta la cassa che vi avevano calato quelli della motonave. Era una cassa piuttosto pesante, di legno, con intorno grosse corde, per poterla portare più facilmente. I quattro uomini erano saliti con il loro carico fino alla strada statale, che in quel punto passa lungo la spiaggia prima di entrare in Taranto. Un'automobile stava ferma lì vicino, con i fari spenti, dopo essersi di nuovo guardati intorno per essere sicuri che nessuno li aveva seguiti. I quattro uomini avevano fatto quasi di corsa la ventina di metri fra la spiaggia e la macchina, e avevano caricato la cassa sull'auto. Poi, i due della motonave erano tornati alla loro barchetta ed erano ripartiti come erano venuti. Gli altri due stavano per ripartire anche loro, con il loro carico. Quando ci avevano visti passare, senza una parola, ci avevano seguiti, erano entrati in Taranto insieme a noi, e ci avevano visti fermarci davanti a un paio di alberghi. Fino a quel momento, nessuno dei due avrebbe potuto spiegare perché ci avevano seguiti, ma allora era nata nella loro mente un'idea che era sembrata loro geniale. Avendo visto dalla nostra targa che eravamo di Napoli, avevano fatto lì per lì il piano di nascondere il contenuto della cassa nella nostra macchina e di lasciarcelo trasportare fino a Napoli. Perché? Vedrete! Così, quando ci eravamo fermati davanti al terzo albergo, dove abbiamo trovato delle camere libere, i due uomini si erano fermati anche loro, a una cinquantina di metri da noi. E una mezz'ora dopo, quando avevano pensato che ormai noi e tutti gli impiegati, i camerieri dell'albergo dovevamo dormire, avevano aperto con una chiave falsa uno sportello della macchina e avevano nascosto il contenuto della cassa sotto in sedile posteriore. Poi avevano richiuso lo sportello e si erano allontanati. Uno dei due era partito con la macchina per buttare via in qualche posto fuori di città la cassa vuota, mentre l'altro era rimasto di guardia all'angolo della via che sboccava sulla strada principale di fronte al nostro albergo. Da lì poteva tenere d'occhio l'entrata dell'albergo e ci avrebbe subito, visti se per caso fossimo usciti prima della mattina. Una mezz'ora più tardi, quello che era andato in campania a buttare via la cassa e poi alla spiaggia a far sparire le tracce dell'approdo notturno, era tornato e aveva parcheggiato la macchina nella stessa via dove faceva la guardia e suo compagno, ma cento metri più in là, così che noi non avremmo avuto alcun sospetto vedendo la loro macchina. I due avevano allora stabilito che quello che era stato di guardia sarebbe andato a riposarsi un po' nella macchina parcheggiata, che l'altro avrebbe fischiato se uno di noi fosse uscito e fosse partito con la macchina o, preso da un sospetto, avesse cominciato ad esaminare l'interno dell'automobile oppure la serratura. Capirai, aveva detto quello dei due che era il capo. Naturalmente, aprendo lo sportello con la nostra chiave e caricando la roba, ho fatto attenzione a non lasciare tracce, ma non si sa mai. Un oggetto fuori posto, una piccola macchina che non c'era prima, ed ecco il padrone della macchina insospettito. E allora? Non si sa mai cosa gli può venire in mente di fare. Dunque, mentre io mi riposo, perché mi sento piuttosto stanco, tu fa bene attenzione. E chi entra, non esce dall'albergo, e se ti viene il minimo sospetto, fa un fischio, e io vengo subito. I due avevano fatto come aveva stabilito il capo. E quella notte, come pure il giorno seguente, tutto era andato bene. Noi non avevamo sospettato niente, e i nostri cari amici non avevano mai perduto le nostre tracce, fuorché una volta a Brindisi, dove una mattina avevano creduto che fossimo spariti. Mentre in realtà, Annibale, durante un giretto, nelle vicinanze della città, si era smarrito. Chissà come ha fatto. Ed aveva messo un paio d'ore a ritrovare la strada giusta. Il più bello è che, malgrado tutta la loro attenzione, i due avevano lasciato delle tracce. La chiave non girava più così facilmente come prima nella serratura. E sul sedile di dietro c'era una macchia scura, piuttosto grande, che aveva la forma di un piede o di una scarpa. Ma nessuno di noi aveva trovato ragione di insospettirsi, e non avevamo nemmeno esaminato con attenzione la macchia per vedere se poteva essere stata lasciata dalla scarpa di uno di noi. E né io, né Annibale. Per non parlare di gioia dorabile, abbiamo notato che una certa macchina azzurra, a due posti, sempre la stessa era parcheggiata ogni giorno nelle immediate vicinanze dei nostri diversi alberghi, spesso sulla stessa via e lungo lo stesso marciapiede. E naturalmente non avevamo notato che la nostra macchina era sempre sorvegliata da uno dei due uomini. Suppongo che non l'abbiamo notato e non abbiamo mai sospettato niente appunto perché essi erano per noi due sconosciuti in città sconosciute. Adesso mi dico che eravamo veramente degli stupidi per non accorgerci di nulla. È stato a Barletta, che è quello dei due, che era di guardia. Ha dimenticato per qualche minuto di sorvegliare l'uscita dell'albergo perché stava parlando con una ragazza che conosceva e che era in vacanza lì vicino. E durante quei minuti Annibale è uscito, ha preso la macchina ed è partito per canne. L'uomo ha lasciato lì per lì la ragazza e facendo un fischio si è messo a correre verso la loro automobile che per caso quel giorno essi avevano dovuto parcheggiare a un centinaio di metri di noi in un'altra via. I due avevano ritrovato Annibale al momento in cui elli scappando del contadino si era gettato nella macchina ed era partito a tutta velocità verso Canosa. Per non correre il rischio di vederselo sparire di nuovo davanti agli occhi, avevano deciso lì per lì di provare a fermarlo, per domandarle una cosa qualunque e fargli raccontare nel corso della conversazione chi era, dove andava e da dove veniva e così via. Invece, come già sapete, Annibale appena aveva visto i gesti che facevano per fermarlo. Aveva accelerato ed era scappato. Così, che i due erano rimasti sicuri che noi avevamo scoperto ciò che essi avevano nascosto sotto il nostro sedile e che ora provavamo a fuggire per tenerci la roba noi stessi. Bella faccenda! E adesso suppongo che mi domanderete con la massima impazienza. Ma insomma, che cosa avevano nascosto nella vostra macchina? E perché diavolo avevano nascosto proprio lì il contenuto della cassa? E non ve l'avevo detto prima per la semplicissima ragione che nemmeno noi l'abbiamo saputo prima di aver sentito tutta quanta la storia che vi ho raccontato. Nella cassa, dunque, c'era carta per sigarette, cento pacchi e il contenuto di ciascuno erano mille pacchettini di carta per sigarette. Che ne dite? Per quei pacchettini sei persone avevano rischiato la vita chissà quante volte. Noi senza saperne nulla. Gli altri due, conoscendo perfettamente i rischi che correvano e chi facevano correre. Quella carta per sigarette che avevano introdotto nel paese per via di mare, senza pagare la dogano, il capo e i suoi complici la dovevano vendere a Napoli a un terzo che, con l'aiuto di altri complici, introduceva dall'estero tobacco, tabacco, naturalmente senza pagare la dogana neppure per quello. E con quel tabacco e quella carta fabbricava poi migliaia di sigarette che vendeva guadagnando milioni e milioni. Questa volta, questa volta, però, la sola cosa che ci hanno guadagnato, quello che fabbricava le sigarette, i suoi complici e i disonesti che rivendevano le sigarette, sono stati parecchi mesi in prigione e l'avevano ben meritato. Ma chi non aveva meritato ciò che è accaduto dopo? Era il caro Vespucci. Calmatevi però, non è stato mandato in prigione, benché per lui sarebbe quasi stato meglio. Vi ricordate l'antico anello romano di cui vi ho parlato al principio della mia lettera? Il caro animale avrebbe voluto che quell'incidente rimanesse segreto per qualche tempo ancora. Ma ahimè, la polizia ha voluto sapere tutto e Annibale è stato obbligato a raccontare come e dove aveva trovato l'anello. E la polizia non per niente si ama a Napoli, la città del Museo Nazionale. Si è subito insospettita ed ha chiesto ad Annibale di fare esaminare il suo anello dagli specialisti del museo. Se era veramente antico, egli non aveva il diritto di tenerselo, ma doveva consegnarlo o piuttosto venderlo al museo. E del resto ci hanno detto in questura con un sorriso. Vedendo la disperazione di Annibale, se non era antico non aveva naturalmente nemmeno il diritto di tenerselo, già che l'aveva trovato nel campo di un altro. Così che la sola cosa da fare era che Annibale consegnasse immediatamente il suo caro anello alla polizia, che l'avrebbe a sua volta consegnato al museo o al padrone del campo. Immaginatevi la disperazione del povero Vespucci. Ha provato a discutere con la polizia, ma non c'è stato nulla da fare. L'anello doveva essere consegnato immediatamente. Ma ahimè, il più terribile. Non era ancora accaduto. Questo però ve lo racconterò un altro giorno, nella mia prossima lettera. Ora sono stanco di scrivere. I Vespucci mi stanno chiamando per andare a cena.